E questa era Loredana Bertè con Non sono una signora Chissà se invece Beasi si definisce una signora o una signorina, una ragazzina, una bimba, non lo so Lo chiederemo a lei ma non prima di ascoltare la sua strepitosa e interminabile sigla Beatrice arriva col sorriso forte ovunque Il sorriso c'è La sua voce che rispende La sua voce Scopriamo con lei le canzoni che ci rendono Non si sa cosa, ci rendono cosa? Ma per il mistero Il cuore Canta con Beatrice Risplende il suo jingle Canta con Beatrice Risplende il suo jingle Ehi Beatrice Ecco il ritmo Poi non si sa cosa mangia o vede E succede di tutto Casino E Fabio ascolta è tempo di imparare Buongiorno Beasi Buongiorno a tutti quanti Allora come stai Beasi? Ah proprio ho visto che sei genzi Cos'hai fatto ad Halloween? Ho fatto una festa a tema Cioè non io A tema non allo Era organizzato No no Ah no No in realtà non era propriamente tema Sarebbe stata una roba molto alternativa No? Non era propriamente tema Ah cos'era? Era tema cartoni animati Non dell'orrore Cioè cartoni animati in generale No 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 Vario Ok tu ti sei vestita da? Rick di Rick e Morti Ho comprato una parrucca blu E com'è che non ho ancora visto foto? Io voglio vederla adesso Perché non si vedranno mai No Beasi in versione Rick Esatto Di Rick e Morti giusto? Sì Che anche quello è molto genzetta Però posso dirlo Sì è vero Perché sì Già la mia generazione È vero Ho ragione Cioè a volte ti avrei detto Non so Io ti avrei detto Pollon Capito Quella roba lì I puffi C'era un ragazzo vestito da puffo Non era avatar Era un puffo sicuro No no era puffo Lui si definiva puffo Ok ok No perché insomma Quella roba lì Posso arrivare Ho occhi di gattoli Di Oscar Sì però è vero Sono troppo vintage Rick e Morti Mi viene in mente Mort e Mindy Che invece è un'altra roba No è Mort Eh vabbè Allora vi dico Andate a rivedervi In questo momento La faccia di Beasi Quando ho detto Mort e Mindy Come dire Ma cos'è? Cioè vabbè Dico solo Robby Williams Robin Williams Ah ma il cantante? No Scusate se ho detto Una parolaccia No non Robby Williams Robin Williams L'attore Mrs. The Fire No zero proprio Completamente nulla Vabbè ecco Vabbè Allora Ma come si fa ad andare atti così? Cioè come non sai chi è Robin Williams? Ma magari lo so L'attimo fuggente Capitano mio capitano Ok E se ti dico Nano Nano No La mia mano Nano Nano No Non ci sono Ok Mindy Comunque Vabbè Allora Ci hai portato una canzone Oggi Che farò la stessa faccia Che hai fatto tu adesso La farò io Quando sentirò il nome Dell'artista Perché Si chiama Tyler The Creator Tyler Tradotto Tyler Il creatore Quindi quando Nel tanto mandate qualcuno Al creatore Non lo mandate da Tyler Cioè Forse va da Tyler adesso Chissà Vabbè Comunque È uno Sì È un artista americano Che ha fatto questa canzone Che ha fatto Ha fatto uscire questo nuovo album Di recente Si chiama Chromacopia L'album Completo E io ho scelto una canzone Che secondo me Era anche quella più Carina per la radio Che si chiama Balloon Balloon Ok Allora lui è Tyler The Creator Uno che insomma Se la prende facile Sono il creatore Quindi pensate voi Quanto ego ha quest'uomo Adesso ci andiamo a ascoltare Appunto Balloon Dall'album Chromacopia Chromacopia Don't Stop Dice Invece non l'abbiamo stoppata Alla fine Finisce Finisce il suo Oh bravo sto Tyler Fa tante voci anche Ci piace Fa tante voci diverse Bravo È tipo ventriloquo Mi sa Allora no Il fatto di Tyler Che è particolare Che lui nel suo album Ha messo Dei featuring Molto pochi Ne ha messi Però Tutti insieme Questa canzone No D'accordo con Gli artisti Che hanno partecipato Non ha messo Come di solito si fa Il featuring Vedete Perché Non è che Beasilo Presa così per strada E dice No Non sai cosa fare Vi niente A raccontare Perché mi chiedevo proprio questo Io vedevo il titolo della canzone Ma non ho visto Non li ho messi Che ingrato Nessuna canzone E invece no Era tutto No no Nel senso Non l'ha fatto a discapito Degli altri artisti L'ha fatto E cosa dobbiamo sapere quindi Di questo Tyler The Creator E perché questa mattina Ci siamo ascoltati Balloon Allora Tyler Si chiama The Creator Perché Lui gioca molto sul fatto Che la musica È un Un mezzo espressivo Potentissimo Infatti Il The Creator È perché lui Con la musica Si sente di poter creare Anche proprio Varie situazioni Dimensioni Emozioni È come se fosse La sua dimensione In cui lui si sente Più a suo agio Si sente di dare Il suo meglio Quindi Il suo metaverso Esatto Come se fosse un po' Il suo metaverso E questa canzone È stata scelta da me Medesima Ok Perché in questa canzone Lui parla appunto Del suo talento Di quanto lui Si sente affortunato Ad avere un certo talento E di quanto lui Anche a volte Si sente penalizzato Ad avere Una certa dedizione In quello che fa Perché a volte Appunto Ti devi togliere Cioè non puoi toglierti Degli sfizi Che vorresti Toglierti Se sei impegnato Nel lavoro O nel fare Determinate cose E In questa canzone Lui fa una critica Un po' Alla società Soprattutto musicale Ma in generale In cui lui vive Dove appunto C'è Uno Stereotipo Di persona Ad esempio Lui a un certo punto Dice No BBLs I like A caps Che tradotto è Non voglio La BBL Cioè le ragazze Che hanno la BBL Voglio le ragazze Con il seno Di taglia piccola Che tu dici Perché mi stai dicendo Perché mi stai dando Ho capito adesso BBL L'acconimo cosa significa Big No no Non credo funzioni Quello BBL È quell'operazione chirurgica Che ti toglie Il grasso Da determinate parti Del corpo Per metterlo Poi nel seno Ok Ok E lui dice Non mi piacciono Preferisco E uno dice Perché me lo dice Informazione personale Cosa me lo dice In realtà È per dire appunto Che Cioè Per andare contro Diciamo Alla società Soprattutto americana Nollywoodiana Dello spettacolo Lui preferisce Diciamo Le persone naturali Mi viene bene Così come sei Esatto Sì sì Esatto Più terra terra Il grasso Lascio lì dove è Nel caso E a me nelle tue terze Esattamente 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 Esatto E questo è quello Che mi piace Di queste canzoni Ascoltandolo magari Anzi uno come me Penserebbe appunto Solo Gli piacciono quelle maglie Non capisce Che invece c'è Un Confronte Una critica Appunto Con quello che è Una società Soprattutto quella appunto Dello spettacolo Soprattutto quella Los Angelinas Hollywoodiana Los Angelinas Giulia No no Los Angel Sì nel senso Comunque che appunto Dà un'immagine Espresso volentieri Ancora più distorta Di quella che noi Possiamo solamente Immaginare Con alcune Anche Anche noi siamo Molto meglio Perché la nostra televisione Dà sempre Dei grandi risvolti Da questo punto di vista Però insomma Ecco Molto interessante Quindi The Creator Tyler The Creator Dobbiamo seguirlo quindi Tutto bello il disco Molto bello Da sorbirsi Non sorbirsi Una cosa carina Ho tempo di dire Un'ultima cosa Sì Dio una cosa carina Lui ha fatto in modo Che su Spotify Tu non puoi scegliere L'ordine in cui sentire Le canzoni Ma le devi sentire In un determinato ordine Che lui ha scelto Perché tutte le canzoni Sono legate tra di loro Vedi Turnano i concept album Esatto Questa cosa qua Una volta era così Perché col vinile Quello dovevi fare Al massimo devi giusto Partire da metà Andare avanti Ma non di più E vedi Adesso torna Quindi Una sorta di vinile Di blindato Vinile digitale Va bene Ok Tyler The Creator Va bene Grazie Bersi Grazie a voi E adesso invece Ascoltiamo qualcuno Che secondo me Anche questo unisce Generation Cross Perché insomma Bando di Justin Timberlake Appena uscito con una canzone nuova Voi Gen Z Ve lo ascoltate tranquillamente Giusto? Sì Noi Non vi dico Abbiamo fidanzate e mogli Che sono impazzite E che neanche ci guardano La sera non troppo a casa Per colpa di Justin Timberlake Quindi insomma E anche io forse Non guarderei nient'altro Se avesse Justin Timberlake di fianco Comunque quindi Justin Timberlake con Drone Alle 7.48 Qui su Cristian Radio Grazie Bea Ciao Ciao